ragazzi benvenuti in un nuovo video di iron nerd 96 e sono proprio usciti poco fa ma anche l'altri dei rumors che riguardano la marvel e che quindi dovevo assolutamente fare un video perché un video andava fatto andava volevo far vedere a questo ne vediamo in casa marvel e naturalmente ne volevo parlare con voi iniziamo da dire che la prossima serie che uscirà su netvice su disney plus scusatemi e eco eco che è il personaggio punta di maya lopez che abbiamo visto già in tardè che vedremo in david borne che gli abbiamo visto in shulk e che naturalmente avrà dei corrogamenti con king ping ma aspettate perché eco è una serie che sinceramente aspetto ma non aspetto tanto per il personaggio in sé perché non è che mi interessa tanto però sicuramente avrà dei svolchi narrativi su altri prodotti del marvel cinematic universe e quindi devo dire che una cosa molto importante che mi è piaciuta di eco che è uscita e trappellata da rumors e che maya prenderà i suoi vederi da praticamente avrà dei poteri mistici da dei poteri mistici che ha preso da piccola disegnante questa cosa sinceramente da una parte sono contenta e da una parte no perché ricordiamoci cosa hanno fatto con miss marvel e quindi se ci rende un po il naso perché per scendere un po il naso inoltre eco sarà la prima serie marvel che sarà molto sanguinosa come appunto la serie da devil di netflix e anche questa cosa qui diciamo diciamo non è che mi fa sta c'è un po e fa piacere però secondo me secondo me non ho mai visto tanto c'è tanto sangue nel marvel cinematic universe e secondo me caricare troppo eco secondo me non sarà una cosa produttiva naturalmente qui in eco vedremo king 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 che non solo ha inoltre si dice che in questa serie di eco che avrà sei episodi andrà a prendere dei punti narrativi dalla serie di netflix quindi se non avete visto quella serie lì inutile vedersi eco anche se è un soft e ributto ma alcuni concetti sono lì perché camping diventerà essendo stato già catturato sulla serie netflix diventerà praticamente il sindaco di new york mentre invece tar devil born che si dirà che in questo lasso di tempo dove sono venuti gli avengers lui aveva sempre operato però diciamo che non aveva mai combattuto insieme a loro questa è una cosa che voglio vedere naturalmente spiegata perché sono molto molto curioso naturalmente andiamo a parlare del secondo argomento riguardante eco perché dopo eco abbiamo naturalmente il nostro capitano america di new brave new order film che è stato totalmente riscritto totalmente girato e con la sciopera degli genitori che si diceva che il film deve uscire intorno al 2025 i marvel studios si prenderanno del tempo io sono molto contento di questa cosa perché secondo me secondo me è giusto perché un film che mi aspetta tanto vediamo le creditati siamo visto nei panni di capo quindi voglio godere voglio e poi vedremo magari son forte nei panni di redduck quindi quindi davvero film che aspetto e sono contento che marvel studios si prendano tutto questo tempo ma tutte ma anche il video che trovate ieri che ho fatto il fatto di ridurre serie e concentrarsi sui film secondo me è una cosa che sinceramente voglio rapprezzare perché la mcu è diventato grande grazie a questo e quindi e quindi spero che i cambiamenti la rivoluzione sia in atto in casa marvel studio altro un'altra cosa che diciamo sto dicendo da tempo e che vi ho detto nei diversi video caricato sul mio canale youtube e youtube e che naturalmente prendiamo spiderman 4 film di tom molland che uscirà che non ci sa ancora quando uscirà però vedremo kingpin naturalmente se vedremo kingpin vedremo anche secondo me un abbozzo dei sinistri 6 perché sinistri 6 quindi lo spazio di tom molland collega collega collegherà il marvel cinematic universe con lo spade versi in casa sony quindi vedremo secondo me il nostro tom molland combattere insieme contro morbus venom ma non solo secondo me anche con madame web vedremo anche l'abortoio di keaton che secondo me nella scena post credit ce lo presenteranno ma questa è una cosa che io vi sto dicendo da tempo e se veramente accade che avremo i sinistri 6 potevate dire ma iron nerd 96 ce l'aveva detto quindi naturalmente questa è una cosa che già avevo detto in passato e se accade potete dire che iron nerd 96 ve lo stava ve lo stava dice diciamo che film sono a me non mi sono mai piaciuti creven venomo morbus mi hanno fatto elettronalmente finalmente morbus un film senza senso però sono curioso di vedere sinistri 6 come se la vedranno come se la vedranno contro appunto il nostro spiderman il nostro praticamente tom molland altre indicazioni che ci arrivano sempre da rumors ovvero agatha e da dark agatha che si doveva chiamare che aveva creven of chaos invece si chiama dark cold series naturalmente agatha darkness che abbiamo imparato a conoscere in bandavision quindi la vedremo secondo me lasciata per sotto ancora l'incantesimo e da delle scene trapelate si può vedere la congrega che inoltre la marvel sta facendo vuole fare una serie sulla congrega sulle streghe di salem ma vedremo anche il detective che in un certo modo in un certo modo libererà agatha e naturalmente in questa serie ci sarà secondo me il riferimento quindi naturalmente agatha d'acqua serie secondo me riprenderà e avrà uno spunto narrativo secondo me con i young avengers young avengers che secondo me vedremo qui con i figli di banda e visione che poi ci arriveremo perché un'altra notizia sempre riferita al marvel cinematic universe è che vision quest è una serie che ormai si vocifera e secondo me la marvel farà perché abbiamo visto il visione bianco andarsene da west e sono convinto che vision quest metteranno anche il figlio di visione che poi andrà quindi a collidere a combattere con i nostri giovani vendicatori scena che in the marvels scena post credit ci hanno detto ci hanno fatto capire il progetto che secondo me arriverà presto ma anche è un progetto che anche se arriverà un po più lontano sono curioso sono curioso di vedere perché young avengers nella categoria marvel sono veramente importanti e se ci fate caso piano piano anche nelle serie precedenti ce lo stanno ce le stanno facendo vedere vedere naturalmente altro progetto che marvel studios hanno come in cantiere si vocifera sempre rumors quindi tutto ciò che vi ho detto prendetelo con le pinze perché non è nulla vera ma tutto ciò che ho letto su praticamente su internet scarlett witch la nostra scarlett witch che si pensasse morisse all'interno di tutto strange multiverse of madness ma qui la marvel anche qui vuole farci una serie sopra secondo me fare una serie solo sul personaggio di scarlett witch di vanda secondo me non conviene ma farlo con altri personaggi chissà forse anche vedere strange rivedere america chavez e molti altri secondo me farà bene ultima cosa ultima cosa che riguarda gli ultimi progetti in casa marvel è che il dottor destino che tanto si vocifera e tanto si può vedere sarà interpretato da killian murphy attore che sinceramente abbiamo già visto in batman il cavaliere oscuro di nolan attore che stimo e diciamo che il fatto che anche venga sostituito dal dottor destino è una cosa che già va detto negli scorsi video non è che mi fa stare tranquillissimo perché abbiamo visto come risciuto riguardanti dei personaggi come in passato come war machine ma anche come lo stesso rudy hanno portato diciamo bene mentre qui presentare e levare kang e mettere il dottor destino in un film dove stai per introdurre fantastici quattro secondo me nella soluzione migliore migliore in casa marvel ma sono fiducioso sono fiducioso perché secondo me la rivoluzione in casa marvel è iniziata il fatto che le serie vengono diminuite il fatto che i film si prendono più tempo è una cosa che sinceramente mi fa stare tranquillo mi fa stare tranquillo perché penso che la cosa che è più appassionato al marvel cinematic universe star è costruire passo dopo passo tutti i nostri vendicatori per poi farli concidere in film tutti uniti e questo secondo me è una cosa molto importante che sono convinto che che vi infatti si farà sicuramente sicuramente vedere ci farà sicuramente succedere perché vi ripeto sono dei film che io voglio assolutamente vedere come ad esempio capitano america del new brave order secondo me la ci sarà anche il ritorno di steve rogers altri film come dei film dei suoi vendicatori ma anche dead bull 3 dead bull 3 che uscirà luglio dove avremo anche la partecipazione del jackman che secondo me ci farà anche lui godere insieme al nostro dead bull ragazzi queste sono le notizie rumors riguardanti il marvel cinematic universe spero che questo video vi sia piaciuto questo video sia stato utile per darvi le ultime notizie perché come serie uscirà votif nel periodo natalizio poi uscirà e con il periodo di gennaio ma in più come cinecomic avremo anche a come ne penso che il suo a come ne arriverà un video quando potrò su cosa ne penso e cosa mi aspetto dal film anche se anche lì il film sappiamo che non è collegato un film che sinceramente non è che ne aspetto tanto e che spero che canneri darà vigore a questo universo intanto ci arriverà anche una recensione di mamma perso la era in questi giorni poi a natale faremo una live con l'apertura dei regali poi ne arriveranno anche altri noi ci vediamo sempre in video e live vi ricordo sempre di seguirmi su tik tok su instagram su facebook se volete naturalmente vi amo 3000 grazie mille per l'affetto e un vostro like un vostro commento una vostra condivisione è è veramente tanto per me e vederò sempre eternamente grazie ciao ragazzi dal copo di iron nerd 96 è tutto a volevo fare questo video penso che vi ripeto ho raccolto le idee l'ho messo insieme per farvi avere delle notizie più quante possibili riguardanti questo universo che sono convinto marvel se mi sta sentendo ci farà di godere perché da marbles pure andata male e sinceramente dispiace tango l'abbiamo visto non l'abbiamo amato sappiamo che forse sarà ricastato forse sarà sostituito vedremo ciao ragazzi voglio bene 3000 da iron nerd è tutto